Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari e Radiobari. In primo piano lo stadio San Nicola perde pezzi, questa mattina sopra luogo dei tecnici per il ripristino del telone del petalo 19. Ma quello dei veli mancanti sembra essere l'ultimo dei problemi. Vediamo perché in questo servizio di Serena Russo e a seguire l'intervista all'assessore comunale allo sport Elio San Nicandru. Uno stadio che letteralmente perde pezzi. Quelle che vedete sono le immagini riprese questa mattina durante il sopralluogo dei tecnici del comune di Bari per i lavori di ripristino del telone sul petalo 19, mancante da circa due anni. Dal comune minimizzano parlando di normale perdita di calcio e struzzo conseguente al maltempo e alla vecchiaia dello stadio. Sta di fatto che ricevere in testa anche la più piccola delle pietre venute via dal soffitto e cadute davanti l'ascensore della tribuna ovest potrebbe essere davvero pericoloso. In quest'ottica i quattro teloni venuti via giorni fa a causa del maltempo rappresentano davvero l'ultimo dei problemi. In poche parole i costi di manutenzione continuano a lievitare. Se solo per il petalo 19, rimesso a nuovo oggi, si sono spesi 117 mila euro, nonostante sia stata fatta economia montando un tessuto in PVC rispetto al precedente Teflon, per cui invece erano stati richiesti 170 mila euro, per montare i cinque mancanti ad occhio e croce si sfiorerebbe il mezzo milione. E se si considera che la garanzia di quelli ancora in piedi è scaduta anni fa e che quindi in realtà dovrebbero essere sostituiti tutti, le cifre da spendere diverrebbero davvero improponibili. Ci si chiede poi se un nuovo collaudo, visto che quello fatto nel 2000 in scadenza, promuoverebbe la struttura. È evidente che il futuro dello stadio San Nicola appare sempre più incerto. E se i costi di manutenzione vanno ad aggiungersi al saldo dei debiti della squadra bianco-rossa a carico di eventuali acquirenti, ecco che la vendita della S Bari appare sempre più improbabile. Ad oggi i costi dei lavori di manutenzione aumentano sempre di più. Non solo i teloni, adesso anche il calcestruzzo che sta dando problemi. Diventa sempre più difficile questa manutenzione dello stadio e a questo punto anche la vendita? Noi lo sappiamo da anni e lo diciamo che ovviamente col passato degli anni, come tutte le cose, hanno bisogno di sempre maggiore manutenzione. Lo stadio ormai ha più di 20 anni e quindi comincia ad accusarli e richiede una serie di interventi manutentivi continui. Ovviamente noi abbiamo grosse difficoltà, l'abbiamo sempre detto, non abbiamo le risorse necessarie ad esicurare una manutenzione efficiente che richiederebbe tanti di quei soldi che dovremmo impegnare l'amministrazione comunale per fare solo quello e non è possibile. È necessario rimodernarlo, renderlo più funzionale e gestibile attraverso l'esternalizzazione. Cioè questo non è un compito di cui si può occupare il comune ma devono essere dei soggetti privati, magari collegati con la squadra di calcio. A lungo abbiamo lavorato per poter quantificare e sostituire quel telo mancante. Moltissimi tifosi, spettatori ci sollecitavano a farlo, ma questo vi dimostra quanto sia oneroso. Ben 120 mila euro circa per sostituire un petalo e nel frattempo se ne sono rotti tre. E continuano le indagini sul ritrovamento dei due corpi senza vita di due coniugi avvenuto ieri a distanza di alcune ore l'uno dall'altro in zona San Girolamo. Carabinieri e polizia stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un doppio suicidio. Gli inquirenti però non escludono che si possa trattare di un omicidio seguito dal suicidio dell'uomo. Dopo l'ondata del maltempo dello scorso fine settimana a Bari si contano i danni mentre l'AMI annuncia interventi speciali per liberare i bordi delle strade del litorale. Silvia Di Pinto è andata per noi a monitorare le condizioni di torre a mare. Vediamo. Porto invaso da sabbie e detriti, una barca affondata, due gravemente danneggiate e il pontile dello storico Circo L'Unione travolto dal mare in tempeste completamente distrutto. E il maestrale che venerdì scorso ha sfiorato raffiche di 90 km all'ora e riuscito a far crollare in mare perfino gli enormi massi che fungono proprio da barriera per proteggere il porticciolo di torre a mare. E mentre l'assessore regionale alla protezione civile Fabiano Amati annuncia la convocazione urgente della quinta commissione per decidere se chiedere lo stato di calamità, a torre a mare si fa una prima stima dei danni del maltempo. Numeri certo non da catastrofe naturale ma significativi se si considerano le difficoltà già pesanti del momento di crisi. Mille euro per una barca danneggiata e non assicurata, ci dicono i pescatori, sono più di uno stipendio. Un paio di pezzi del nostro pontile si sono staccati, qualche cima rotta. Già come stiamo con la crisi, più queste altre cose che non ci vogliono. Voi state ancora aspettando il dragaggio? Stiamo aspettando il dragaggio, questa è perlomeno la terza volta che dicono che devono venire a dragare. Intanto sul litorale nord e sud di Bari Lamio è intervenuta per liberare le strade da massi e detriti. Circolazione è ripresa quasi senza problemi, ora toccherà istituire un servizio speciale per rimuovere gli ingombri da bordo strada. Ma tocca aspettare che cessi il forte vento. Si chiude un 2011 da lacrime e sangue, mentre il nuovo anno si apre all'insegna di ulteriori sacrifici. L'allarme arriva dalla Will Puglia. 53 mila occupati meno in Puglia in soli tre anni, meno 4,1% dal 2008 al 2011, con la disoccupazione femminile che nell'ultimo anno ha raggiunto quota 16% e quella giovanile 35%. E nello stesso periodo, sempre dal 2008 al 2011, le ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria nella nostra regione crescono del 312%, mentre per la cassa inderoga si sfiorano picchi di più 845%. La Will Puglia traccia un preoccupante bilancio dell'anno appena concluso e annuncia un 2012 da record di ingiustizie roboanti e macroscopiche, subite sempre dalle classi più deboli, con la fosca previsione di un impoverimento generale, del definitivo crollo del potere d'acquisto di salari e pensioni, dell'ulteriore perdita in Italia di 800 mila posti di lavoro. Monti bocciato in tronco, sembra più un commissario di Bruxelles che un primo ministro, serve più equità nei sacrifici e nei benefici, chiede Aldo Pugliese, segretario generale della Will Puglia. Necessario colpire corruzione e falso in bilancio e procedere con le liberalizzazioni, promossa ma con riserva alla regione Puglia. Bene il piano del lavoro urge un cambio di rotta su sanità, infrastrutture e trasporti. La Giunta deve riprendere il tavolo della concertazione e sulla questione taglio ai costi della politica sentiamo le parole di Pugliese. Hanno dimostrato di non voler fare alcun taglio al costo della politica che purtroppo in Puglia è molto elevato. Puglia Sounds e Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli insieme per valorizzare l'orchestra del Politea Mabarese. Oggi nel foyer la firma del protocollo d'intesa e la presentazione delle attività previste nel corso del 2012. Tra queste coproduzioni musicali di rilievo nazionale ed internazionale, sostegno alle tournee all'estero e sviluppo delle attività discografica. Il 9 febbraio l'orchestra della Fondazione sarà al fianco del regista Nanni Moretti nello spettacolo Concerto Moretti che darà il via alla stagione sinfonica del Petruzzelli. Ed in chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso con rovesci, temperature con valori compresi tra i 5 e gli 11 gradi, venti dai quadranti meridionali moderati ma rimossi. E vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. È tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.